Festificanti MTIers quest'oggi breaking nerves su Netflix e gli arrivi di gennaio 2022. Attivate il vostro ornitottero che partiamo! Ho deciso come sempre unilateralmente e insidacabilmente di fare anticipazioni molto più rapidi e stringate visto che c'è così tanto tempo per la visione e così poco da vedere. Scusate, la lingua mi è entrata nell'iperspazio. Intendevo dire così poco tempo e così tanto da vedere. Se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle uscite per le mie recensioni e per tutto il resto di cui vorrò parlarvi. Forse è meglio se il gatto la smette di saltare sul potenziometro che le regola la mia velocità vocale. La prima uscita dell'anno è la serie Incastrati, disponibile dal primo gennaio e con protagonisti, i comici italiani Ficarra e Picone. I due interpretano due antennisti che malauguratamente si ritrovano sulla scena di un delitto e vi lascio immaginare. Già dal trailer è qualcosa di così, trash è venuto male, soprattutto nella recitazione e nelle battute, che iniziare l'anno così è troppo pure per me. Girate a largo quindi. Ma le buone notizie non arrivano mai sole, esce Se Son Rose, il primo gennaio, l'ultimo film di Leonardo Pieraccioni uscito in sala nel 18. Considerando che all'epoca lavoravo anche al cinema e l'ho rimosso, non è proprio un bel inizio. La trama è più banale che non si può. La figlia adolescente contatta tutte le ex del padre per vedere se riuscirà a trovarmi una donna per la vita. Sento già la gioia che mi sta zampillando proprio da tutti i pori, guarda, sì sì sì, uh che gioia. Non finisco certo qui perché esce pure Ti presento Sofia, sempre il primo dell'anno. Altro film del 2018, questa volta con protagonista Fabio De Luigi, padre single che deve nascondere in tantissimi modi fantasiosi la sua figlia La Nuova Fiamma che non vuole avere bambini attorno. Inutile dire quanto ho già detto sopra, ho rimosso pure questo. E poi la gente si lamenta di Diabolic. Ma vi rendete conto, cioè, ma vi rendete conto davvero? Cioè, cosa stiamo parlando? Cambiamo del tutto genere perché esce il paramo terrore invisibile nel giorno più pauroso dell'anno, notoriamente quello della Befana. Siamo nel XIX secolo e si parla di una famiglia isolata, formata da madre e figlio, nelle distese desertiche spagnole, quelle note per i film di Sergio Leone, insomma. Ovviamente arriva la superentità o mostro che dir si voglia. E i due saranno in grossi guai, riusciranno quindi a sopravvivere a voi la visione che io probabilmente passo a riguardarmi Uncle Drew, in uscita sempre il 6 gennaio, e non certo una novità. Però è un divertente film sul basket, con giocatori veri e numeri assurdi, storia leggera, e la sfida è riconoscere attori e campioni di basket, tutti invecchiati e truccati. Per il resto meglio tentare la visione di qualcosa di nuovo con Mother Android, in uscita però il 7 gennaio. Un film thriller fantascientifico che segue le vicende di una donna incinta e del suo compagno che fuggono, nel tentativo di trovare riparo e nuova vita, visto che nel mondo è scoppiata stranamente una rivolta degli androidi. Che sia un film finanziato dalla ID, il robot della Boston Dynamics, per dirci che non dobbiamo trattarli male? Saltiamo in un luogo dell'est Europa, e per l'esattezza in Polonia con questo How I Fell In Love With Gangster, in arrivo il 12 gennaio, è tratto da una storia vera. Per l'esattezza a narrare la nascita e caduta di Nicodem, uno dei più noti criminali della storia polacca, sarà appunto una donna che si è perdutamente infatuata di lui. Sinceramente non so, ma il trailer mi ha ispirato, quindi eccovelo qui. Allo stesso modo mi ha attirato un'opera d'animazione dal titolo The House, in arrivo il 14 gennaio. Si tratta di una serie antologica animata in stop motion, e che narra le vicende e le avventure che negli anni si sono susseguiti in quello stabile. Ovviamente tutto a tema horror, una serie che mi ha colpito per la particolarità e la tipologia di animazione. Sempre il 14 gennaio e sempre a tema horror, arriva anche Archive 81. Universi alternativi, una serie dark piena di misteri, di gialli e di fantascienza, che parte con questo archivista che viene incaricato di ripristinare delle videocassette danneggiate e che verrà coinvolto in una storia di scomparse di una regista e di una setta satanica. Vi va se parlo un attimo di caccio con questo documentario Neymar, il caos perfetto in uscita il 25 gennaio? Spero di sì, perché ne parlerò ugualmente. Quindi beccatevi questa miniserie sul calciatore più pagato del Paris Saint-Germain, fra l'altro un calciatore che mi pare non aver mai vinto nulla di così eclatante e che per me è pure un carattere. Ma forse è meglio saltare qualcosa di fantascientifico come la terza stagione di Snowpier, in arrivo il 25 gennaio con un episodio a settimana. Lasciando da parte l'assurdità dell'ambientazione, la prima stagione ha funzionato molto secondo me, ma la seconda ha scricchiolato parecchio, soprattutto per la perdita di un ottimo personaggio. Vedremo quindi se questa stagione continuerà la discesa o ripartirà in salita. A me basterebbe che si stabilizzasse un attimo. Quello che invece vorrei vedere partire in orbita è The Orbital Children. Ma chi me le scrive ste battute? Ah, ah, sono io. Ah, ok. Primo di due film, The Orbital Children uscirà il 28 gennaio e il seguito i primi di febbraio. Si tratta di animazione giapponese in cui due bambini nati e cresciuti sulla Luna e tre invece nati e cresciuti sulla Terra si ritrovano coinvolti in un incidente nella stazione spaziale in cui si trovavano e dovranno provare a sopravvivere e in quelle condizioni. Dal trailer mi è parso molto particolare e ben fatto. Spero di non rimanerne quindi deluso. Sembra lo stesso giorno, il 28 di gennaio, arriva anche Home Team, uno dei soliti film dedicati al football americano in cui il solito coach viene sospeso dalla NFL e va ad allenare la squadra di ragazzini dove gioca suo figlio così da ritrovare qualche legame familiare. Con i datati per comicità Kevin James e Rob Schneider direi che anche loro devono pagare il mutuo però il tutto sembra comunque tratto da una storia vera, quindi magari... E anche per questo video siamo arrivati alla sfine e spero che vi sia piaciuta la scelta di mettere più cose da vedere ma in maniera un po' più sbrigativa quindi mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate come se non ci fosse un domani. Se invece non vi fosse piaciuto, beh, fatevene una ragione purtroppo il mio tempo si sta risicando sempre di più e io ho ancora solo 700 iscritti e non 700.000 come nei miei sogni più bagnati e succinti in cui sono un famoso e giovane youtuber che snocciola in senza tesse sui film che probabilmente manco ho visto. Quindi noi ritorniamo alla realtà e al prossimo video MT Ayers. Ciao! Ciao!